Che confusione! Con queste parole il consigliere di minoranza Bruno Di Masci bacchetta la maggioranza per il rimpasto di giunta che era nell'aria dal momento che le consultazioni sono partite, ma per il sindaco Anna Maria Casini si è trattato solo di pettegolezzi politici e di strumentalizzazioni. Di Masci insieme agli altri colleghi della minoranza chiederanno un consiglio comunale per discutere della situazione politico-amministrativa a Palazzo Città, alla luce delle ultime fibrillazioni sia in comune ma anche sui social. Vedo e percepisco molta confusione da parte dell'amministrazione attiva, interviene Di Masci. Noi non vogliamo addentrarci in queste valutazioni che competono esclusivamente la maggioranza, ma certo vogliamo capire. Secondo l'ex sindaco e consigliere d'opposizione questa situazione non fa per niente bene né a chi deve entrare nell'esecutivo né a quelli che dovevano uscire. Quattro i nomi che da mesi circolano nelle piazze e nei quartieri della città, ma negli ultimi giorni con più insistenza. Valerio Gianandrea, Nicola Angelucci, Stefano Mariani, Dante Di Silvestro. Nomi che ora rischiano di essere bruciati, alla luce anche delle dichiarazioni del sindaco che ritiene che ad oggi non sono ancora maturi i tempi per una così importante decisione, che come sempre viene strumentalizzata da fattori esterni e da pettegolezzi politici, che continuano a minare l'operato dell'azione di questa giovane amministrazione. Insomma, rimpasto sì o rimpasto no, mentre sindaco e maggioranza si fanno due conti, Di Masci chiede un consiglio comunale.